Forse perché gli è proprio all'uno e all'altro considerare in quella maniera le donne e a fare, io non so se posso, se posso, è così. Senatrice, vi chiamo all'ordine, senatore Barani, senatrice Lecce, abbiamo compreso qual è la vostra, comprendiamo le vostre reazioni se c'è in questo l'improprio. No, io ho solo detto che il senatore Falanga, per questioni personali, non gli è stata data la parola sul loro intervento, gli abbiamo dato la parola come dichiarazione di voto e quindi ha parlato, ho detto, ha parlato. Il gesto è che ha parlato Falanga, se loro lo interpretano in maniera maliziosa, se è stato interpretato male, io mi scuso, ma non aveva niente di offensivo. Il gesto volgare e scurrile l'ho ricevuto io, sono solo io a poter concedere o no l'accettazione delle scuse da parte del senatore Barani. Il senatore Barani ha fatto un gesto eloquente, riferito ad una donna che deve chiedere scusa in nome, in nome soprattutto degli altri uomini, presidente Grasso. Grazie.